Il Presidente della Regione interviene sull'attuale situazione politica e denuncia il Sud grande assente dal confronto politico nazionale. L'Icata, carabinieri sequestrano una maxidiscarica, un denunciato. 40 anni di musica sotto il segno dei pesci. Antonello Venditti in concerto ieri sera a Palermo. Buonasera, seconda edizione di Medianews. Oggi è venerdì 30 agosto. Come avete sentito nei titoli, il Presidente della Regione, Nello Musumeci, interviene sulla attuale situazione politica e denuncia il Sud grande assente dal confronto Movimento 5 Stelle-Partito Democratico. Il Sud Italia continua ad essere vergognosamente il grande assente nel confronto politico di questi ultimi giorni sul probabile nuovo governo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. E la conferma di quanto andiamo sostenendo da mesi, il mezzogiorno rimane per alcune forze politiche soltanto un grande contenitore di voti, gli elettori meridionali considerati come donatori di sangue fino all'anemia. Di quel sangue, proprio in questi giorni, si fa mercato nero nei palazzi romani. Si vuole condannare il Sud a vivere di assistenzialismo e ancorarlo ad una irrecuperabilità che alimenti solo rassegnazione e fuga dei giovani. E invece il Meridione, nella sua drammatica condizione, dovrebbe essere una priorità nel programma di qualsiasi governo per una credibile manovra anticiclica e una seria strategia di sviluppo. A scriverlo su Facebook, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Non è la prima volta che il governatore interviene dall'apertura della crisi di governo. Da Presidente della Regione, da uomo delle istituzioni, che ha profondo rispetto per i ruoli e per le regole della democrazia, aveva scritto sempre su Facebook qualche giorno fa, auspico soltanto che si riesca ad avere presto un governo autorevole con il quale trattare e definire i contenziosi enormi ancora aperti tra il Sud e quindi la Sicilia e lo Stato. Sembra che tutti si siano scordati del quadro desolante presentato allo Svimez e per dirla con Roberto Napoletano, sembra proprio che non vi sia consapevolezza dell'uscita dell'emergenza Sud, con il piano, anche da me più volte evocato, come unica occasione di slancio economico per l'Italia, quindi di crescita. Mi chiedo, continua Musumeci, può un governo fondato su un altro contratto, ma sempre e comunque tra opposte visioni della vita e della società, determinare quella autorevolezza indispensabile e quella forza politica necessaria? Dubito. Anche perché il rischio è dare vita ad un governo di scopo, dove l'unico scopo è non restituire la parola al popolo sovrano, il che è sempre un male se si considera che il popolo si è spesso a favore del centro-destra dal 2017, quando vincemmo in Sicilia fuori pochi mesi fa e a ogni turno regionali, nazionali, amministrative ed europee ha sempre dato un'indicazione netta. Stromboli, nuova esplosione. Ieri sera, poco prima delle 23, sull'isola una fitta colte di cenere, sabbia e altro materiale lavico, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Un comunicato ufficiale, diffusso dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia sulla nuova eruzione dello Stromboli, ha reso noto che alle 22.43 si è verificata una sequenza esplosiva dall'area centro-meridionale. Secondo la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, che si è messa in contatto con il Sindaco e con le forze dell'Ordine, al momento non si segnalano danni e la situazione viene definita sotto controllo. Per quanto riguarda l'attività sismica, è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla sequenza esplosiva ed attualmente oscilla su valori medio-alti. Un'ulteriore esplosione di minore intensità rispetto alla sequenza delle 22.43 è stata registrata alle ore 23.29. Dopo le esplosioni sui tetti e sulle strade di Ginostra, la minuscola frazione raggiungibile solo via mare, si è depositata una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale piroplastico, come già avvenuto il giorno prima. La colata lavica alimentata dall'eruzione scende lungo il canale naturale, sul versante occidentale del vulcano, dal quale il fiume rovente raggiunge il mare senza provocare danni. Il chiarore provocato dal magma incandescente è visibile anche a distanza di diversi chilometri. Abbiamo sentito distintamente un boato, dicono alcuni turisti che si trovano a Ginostra, e subito dopo è cominciata una fitta pioggia di cenere e sabbia che ha ricoperto tutto e dalla quale ci siamo protetti e rifugiandoci nelle case. In totale sono circa 3.000 turisti presenti a Stromboli, meno di un centinaio sono invece a Ginostra. Lo scorso mercoledì molti avevano deciso di abbandonare l'isola dopo l'esplosione registrata le 12.17. Intanto in questi giorni solo agli scafi e traghetti di linea possono attraccare a Stromboli. Il sindaco Marco Giorgianni, dopo la violenta esplosione del cratere di mercoledì, ha prorogato l'ordinanza che vieta l'ormezzo ai vaporetti carichi di turisti escursionisti che ogni giorno trasportano 3-4.000 persone dalla Sicilia e dalla Calabria. Anche questi ultimi eventi, secondo gli esperti, sarebbero da collegare alla forte esplosione che il 3 luglio scorso provocò la morte di un escursionista massimo in mesi. 35 anni di milazzo che era insieme a un amico riuscito miracolosamente a scampare alla pioggia di Pietrisco, Lapilli e altro materiale lavico. Istruzione anno scolastico si riparte tra novità blande e ricorsi legittimi. Ancora pochi giorni e si parte, prima con il collegio dei docenti, poi con le riunioni di dipartimento e consigli di classe, infine con il ritorno degli studenti in classe e le lezioni vere e proprie. Ma cosa dobbiamo aspettarci per questo nuovo imminente anno scolastico? Prima di tutto c'è il patto di corresponsabilità a scuola genitori che ha il debutto nella scuola primaria, coinvolgendo direttamente le famiglie in tema di mancanze disciplinari e relative sanzioni. Massima trasparenza e informazioni sulle attività e la progettualità degli istituti scolastici, maggiore condivisione degli interventi di formazione, prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo. C'è poi l'esordio della nuova inclusione scolastica riguardante gli alunni disabili, a seguito delle regole approvate dal Parlamento e pubblicate in gazzetta ufficiale. Diverse le novità a partire dall'assegnazione delle ore di sostegno, che verrà decisa d'intesa con le famiglie, sussidi, strumenti, metodologie di studio, non saranno più elaborati in modo standard, in base al tipo di disabilità, ma con un piano didattico individualizzato che guarderà le caratteristiche del singolo studente. Trova conferma poi la diminuzione dello spazio per l'alternanza scuola-lavoro, anche in seguito al calo dei finanziamenti. Il Monte Ore, pressoché dimezzato rispetto a quello introdotto con la legge 107 del 2015 approvata al governo Renzi, è stato infatti rimodulato dall'esercizio finanziario 2019. Dopo il decreto ministeriale, che avvierebbe per il 2019-2020 la sperimentazione della nuova educazione civica e la convocazione delle CSS-PI per acquisire il parere previsto per legge, il ritorno immediato sui banchi dell'educazione civica rimane incerto. Quello che sta per arrivare potrebbe anche essere l'anno dei concorsi. Nelle scorse settimane il Ministero dell'Economia ha annunciato il via libera al reclutamento di 53.627 docenti. La procedura di assunzione andrà al regime proprio da questo anno scolastico e dovrebbe scongiurare il rischio di avere troppe cattedre senza titolare a partire da settembre, anche per effetto di quota 100 che ha portato a circa 31.000 pensionamenti nel settore scuola. Solo che molte convocazioni per le emissioni in ruolo stanno andando deserte, soprattutto sul sostegno per la matematica alle medie e per alcune discipline tecniche alle superiori, per molti i tipi che non riescono ad ottenere il via libera nei concorsi. C'è poi il problema delle supplenze che quest'anno è letteralmente esploso. Anief ritiene che saranno quasi 200.000 supplenti, di cui oltre 60.000 di sostegno nell'anno scolastico alle porte, su un totale di circa 844.000. In pratica, su tutti coloro che saranno in cattedra a settembre, uno su cinque sarà precario. Sbarcati di notte a Lampedusa, 64 persone dalla Mario, dalla Mare Ionio, ci sono donne incinte e bambini. Sono giunti nel porto di Lampedusa intorno alla mezzanotte i 64 migranti sbarcati dalla Mare Ionio dopo il via libera del Viminale. I migranti sono stati fatti sbarcare sul molo Favaloro, che è zona militare e dove è inibita la presenza a civili e giornalisti. Si tratta di donne, alcune delle quali incinte, bambini con i loro familiari, e dei naufraghi più vulnerabili, con esigenze sanitarie, trasbordati su una motovedetta della Capitaneria di Porto. Intanto si aspetta di capire quale sarà il destino degli altri 34 migranti che si trovano ancora a bordo della nave di Mediterranea Saving Humans, alla quale è stato proibito l'ingresso nelle acque territoriali. Le condizioni del mare sono in peggioramento e la ONG sollecita una soluzione che possa consentire l'attracco della nave a Lampedusa o in qualche altro porto italiano. La situazione a bordo è critica, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, in costante contatto con l'equip della Mare Ionio. Le pesanti torture subite, unite alle condizioni mediche e psicologiche dei naufraghi, impongono lo sbacchio immediato. Palermo, la cui bandiera cittadina accompagna le missioni di Mediterranea sin dalla sua fondazione, conferma che dalle numerose realtà locali denominate porti aperti si leva da tempo una voce di allarme contro la sistematica violazione di diritti umani delle convenzioni internazionali, della Costituzione e contro ogni forma di disumanità e fascistizzazione. Ed è stato convalidato il sequestro della Open Arms. L'ex ministro degli interni Salvini commenta in arrivo altra indagine su di me. Difendere confini per me è un motivo di orgoglio. Il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha convalidato il sequestro della Open Arms. Il provvedimento fu disposto il 20 agosto dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella nell'ambito del filone d'inchiesta che ipotizza per il momento a carico di ignoti il reato di rifiuto di atti di ufficio in relazione alla mancata evacuazione della nave della ONG spagnola che aveva salvato in acque libiche due gruppi di migranti. Sussiste il fungoso del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazione sulla base del fatto che il TAR aveva sospeso il divieto di ingresso in acque territoriali e i migranti sono quindi stati trattenuti indebitamente dal 14 agosto, scrive il GIP. Secondo il giudice è stato messo il preciso obbligo di individuare un porto sicuro spettante all'Italia in quanto primo porto di approdo in base al trattato di Dublino. Porti chiusi e scafisti e ONG in arrivo un'alte indagine conto di me per sequestro di persona per il caso Open Arms. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell'Italia per me è stato e sarà sempre un orgoglio. Lo ha scritto su Twitter l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Alcune settimane fa l'imbarcazione dell'ONG spagnola attesa nel Mediterraneo per 19 giorni un porto sicuro dove fare sbarcare i migranti che aveva salvato. Cronaca allicata i carabinieri hanno sequestrato una maxidiscarica un uomo è stato denunciato. Continuano incessantemente i controlli in materia ambientale in tutta la provincia siciliana. Scoperto una discarica di grandi dimensioni allicata nell'agrigentino i carabinieri hanno posto sotto sequestro preventivo un'area di circa 330 metri quadrati, un magazzino e circa 20 metri lineari di strada dove era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e di vario genere, circa una tonnellata. Un vero e proprio cimitero all'aperto di ferraie. All'interno della discarica sono stati trovati frigoriferi, lavatrici, forni elettrici, climatizzatori, motori di veicoli, cofani e sportelli di autoveicoli, neumatici, sedili per auto e ancora cerchi in lega, televisori, vasche in resina, forni a microonde, motori per climatizzatori, scalda a bagni, pannelli coibentati, strutture in alluminio, porte di legno infissi con vetro e bombole vuote di gas. Al termine dei controlli è scattata la denuncia per un bracciante agricolo di 40 anni per aver dato vita a due discariche, una in via Luigi e Rizzo e l'altra in via Timo Leonte. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato al porto di Palermo oltre 18 chili di tabacchi lavorati esteri per contrabbando provenienti dalla Tunisia. I finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo e di funzionari dell'ufficio delle Dogane nel corso di attività ispettiva doganale svolta presso la cosiddetta area extra Schengen del locale porto riservate controlli di persone, veicoli e merci provenienti dall'estero hanno fermato un cittadino tunisino appena sbarcato dalla nave Catania della compagnia di navigazione Grimaldi proveniente dal porto di Tunisi cogliendolo in possesso di un ingente quantitativo di sigarette e di contrabbando abilmente occultata all'interno della propria autovettura. Alla richiesta dei militari di dichiarare eventuali merci di rilevanza doganale il soggetto ha consegnato spontaneamente due stecche di sigarette in maniera del tutto inconsueta per l'eccessiva solerzia. Tale comportamento ha insospettito gli operanti che hanno fatto prontamente intervenire l'unità cinofila Arca dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza specializzata nel rilevamento dei tabacchi che ha segnalato diverse parti dell'autovettura. Nell'immediatezza si è proceduto ad un'accurata perquisizione del veicolo all'interno del quale sono stati rinvenuti occultati nel sottoscocca nel paracalore della marmitta nel paramotore nonché all'interno dei sedili posteriori 91 stecche di sigarette e 14 pacchetti di vari brand per un peso complessivo di 18,48 kg e un valore di realizzo sul mercato stimato in 3.000 euro. Il soggetto già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di contrabbando contraffazione armi è stato nuovamente deferito a piede libero all'autorità giudiziaria per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri che prevede la reclusione da 2 a 5 anni e la multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto. Rapina ad un distributore di benzina nel rione San Cristoforo a Catania caccia all'uomo arrestato poi nella notte. Notte movimentata tra via Quicella Porto e le rione di San Cristoforo a Catania a seguito di una violenta rapina ad un distributore di benzina ed una seguente caccia all'uomo. L'allarma è scattato quando una pattuglia della Guardia di Finanza ha notato un uomo in fuga dal distributore di carburanti di via Quicella Porto con in mano una pistola e nell'altra una busta di plastica. L'uomo infatti aveva appena rapinato il distributore puntando la pistola allo stomaco di un impiegato che aveva appena svuotato la cassaforte dell'impianto self-service. Minacciando di morte il malcapitato l'uomo era riuscito a portare via 1.400 euro. Subito è scattato l'inseguimento ma il rapinatore a bordo di un'auto Bordeaux è riuscito grazie al traffico a far perdere le proprie tracce nei pressi del quartiere di San Cristoforo. Grazie al racconto della vittima della rapina e le immagini delle telecamere di sicurezza i finanzieri hanno riconosciuto il rapinatore che aveva agito a volto scoperto. Il ladro è stato arrestato una volta giunto nella propria abitazione con addosso ancora parte dell'area furtiva. La pistola è stata ritrovata nascosta nella spazzatura. Depuratore di Aspra il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha incontrato le industrie della frazione. Aziende ittiche o laifici aziende vitivinicole hanno incontrato a Palazzo Buterre il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli. Dobbiamo cercare di mantenere e di implementare il livello di buon funzionamento dell'impianto di depurazione della frazione esordito il sindaco livello migliorato anche grazie all'attivazione della quarta linea del depuratore importante arteria riattivata lo scorso 9 agosto anche se per essere completamente efficiente bisogna riattivare le altre due pompe di sollevamento infatti la prossima settimana la ditta eseguirà i lavori per riattivare il tutto. Il sindaco ha quindi chiesto la collaborazione di tutte le aziende presenti affinché si palesino possibili criticità per arrivare di concerto a soluzioni volte al superamento delle problematiche per mantenere il depuratore di aspre efficiente ed il mare pulito in particolare la riunione è servita anche a cercare di prevenire i consueti ed annuali problemi derivanti da reflui anomali scarto della molitura e della spremitura delle uve che confluiscono al depuratore illecitamente l'elemento inquinante più evidente è costituito infatti dagli oli e grassi che di contro le ditte autorizzate allo scarico smaltiscono correttamente mediante il ritiro da parte di aziende che li trasformano in saponi eccetera durante l'incontro è stato evidenziato che non tutte le ditte che scaricano nella fognatura sono munite di regolare autorizzazione lo scarico non a norma delle acque comporta il sovraccaricamento del depuratore e si rischiano anche pesanti sanzioni da parte degli organi preposti al controllo dunque la causa maggiore che crea problemi al corretto funzionamento del depuratore sono i reflui sversati illegalmente e provenienti da attività abusive non facilmente individuabili l'impatto immediato che provoca allo scarico abusivo è l'otturazione dei tombini l'ingegnere Gaetano Mangano di Soteco ha affermato che attualmente il depuratore comunale lavora al 75% della sua possibile efficienza ma che purtroppo continuano a registrarsi dei picchi di sversamenti anomali durante la giornata che sovraccaricano il depuratore a tal proposito si chiede alle ditte di modulare gli scarichi evitando di concentrarli tutti nella stessa fascia oraria in concomitanza con lo scarico delle civili abitazioni diluire dunque lo scarico attuarlo nella fascia oraria che va dalle 23 alle 7 ed evitare che il depuratore vada in tilt per i picchi di scarichi che arrivano durante le ore diurne maltempo in arrivo in Sicilia settembre inizierà con temporali ma anche con un caldo a foso ancora maltempo in Sicilia quello che si prospetta sull'isola è di condizioni meteo all'insegna del forte caldo il tutto a causa di due perturbazioni che investiranno l'Italia tra sabato e lunedì le temperature sono destinate a mantenersi al di sopra della norma anche all'inizio del mese un caldo non intenso ma spesso a foso e con il termometro anche oltre i 30 gradi in particolare le temperature massime potranno arrivare sabato a 32 33 gradi al centro sud le previsioni sono dei meteorologi di meteo expert meteo.it il peggioramento sarà il risultato dell'azione congiunta di due nuove perturbazioni la prima si formerà fra l'entroterra algerino e il mediterraneo occidentale per poi risalire sabato verso la Sardegna e tra domenica e lunedì verso il centro sud della Sicilia l'altra è di origine nord-atlantica investirà l'Italia settentrionale nella giornata di lunedì e successivamente scivolerà lungo la penisola nel fine settimana quattro treni storici alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni della Sicilia con i diversi itinerari sulle più suggestive linee ferroviarie della regione partenza da Siracusa Agrigento Palermo e Trapani in Sicilia un weekend particolarmente ricco di appuntamenti con i treni storici del gusto fra domani e domenica ben quattro viaggi in altrettante aree fra le più suggestive dell'isola dalla Valle dei Templi di Agrigento alle città barocche fino alla Valle del Platani si parte domani alle ore 16 dalla stazione di Agrigento con il treno dei Templi diretto a Tempio di Vulcano il convoio fermerà anche nella stazione di Agrigento bassa alle 16.10 il programma turistico prevede la possibilità di effettuare una visita guidata all'interno del giardino della Colimbetra gestito dal Fondo Ambiente Italiano e di esplorare i magnifici tesori custoditi nel cuore del leggendario parco archeologico di Agrigento alle 18.10 in prossimità della fermata di Tempio Vulcano sarà offerto un caratteristico aperitivo a tutti i viaggiatori il treno di ritorno partirà alle 19 con arrivo previsto ad Agrigento bassa alle 19.20 e ad Agrigento centrale alle 19.30 il costo del biglietto è di 8 euro per adulti e 4 per i ragazzi domenica 1 settembre torna il treno del Barocco con partenza dalla stazione di Siracusa alle ore 8.50 la prima tappa del viaggio sarà Ispica dove i viaggiatori verranno accompagnati in un'escursione nel cuore antico della città alle 12 il treno storico ripartirà alla volta di Ragusa con arrivo previsto per le 13.20 qui sono previsti il laboratorio del gusto a cura della locale condotta Slow Food ed escursioni guidate nei quartieri storici della città il treno di ritorno partirà dalla stazione di Ragusa alle 17.30 con arrivo a Siracusa alle 19.30 il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi ancora domenica 1 settembre da Palermo a Cammarata e Mussomeli viaggerà il treno della Frutta e conserve d'autunno nei Monti Sicani la partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle 8.48 prevista e fermata intermedia a Bagheria Termini Merese Rocca Palomba Alia con arrivo a Cammarata per le 10.37 da qui un bus condurrà i viaggiatori all'antico castello di Mussomeli dove è in corso la tradizionale fiera il laboratorio del gusto organizzato dalla condotta Slow Food di Caltanissetta prevede degustazioni di lenticchie di Villalba accompagnate da pane e di grani antichi cunzato a cura del comune di Mussomeli il treno di ritorno partirà dalla stazione di Cammarata alle 18.10 con arrivo a Palermo Centrale alle 19.34 il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi infine sempre domenica 1 settembre da Trapani a Marsale alle isole dello Stagnone viaggerà il treno dei sapori del sale e del mare si parte dalla stazione di Trapani alle 8.52 con arrivo a Marsale alle 11.30 da qui il viaggio proseguirà a bordo di un battello diretto all'isola di Mozia non mancheranno come di consueto i laboratori del gusto a cura della condotta Slow Food il rientro a Trapani è programmato per le 21.07 il costo del biglietto è 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi 40 anni di musica sotto il segno dei pesci Antonello Venditti in concerto ieri sera al complesso monumentale Castello a Mare di Palermo continua il successo di sotto il segno dei pesci outdoor la serie di concerti di Antonello Venditti per celebrare i 40 anni di uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana tra le tappe siciliane del cantautore romano dopo il concerto del 27 agosto al teatro antico di Taormina ieri sera l'appuntamento è stato al Castello a Mare di Palermo dove l'artista si è esibito per 4 ore domani invece l'appuntamento è da Grigento nel 1978 anno della sua pubblicazione sotto il segno dei pesci ebbe un forte impatto sul paese sia a livello musicale che culturale tra tematiche fortissime attuali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone come in Sara o Giulia brani dagli arrangiamenti modernissimi e rivoluzionari come sotto il segno dei pesci che ancora oggi è fonte di ispirazione per i nuovi cantautori e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni 70 come Francesco dedicata all'amico Francesco De Gregori l'album riuscì a farsi strada nel cuore e nell'immaginario italiano 40 anni dopo la sua uscita sotto il segno dei pesci è ancora in grado di riunire generazioni diverse e apparentemente lontanissime sotto la stessa costellazione merito di una scaletta e di un allestimento imperdibili accompagnato dalla sua storica band Antonello Venditti ha riproposto i brani del disco oltre alle canzoni più amate del suo repertorio come Giulio Cesare Ci vorrebbe un amico Roma Capoccia notte prima degli esami Amici Mai Grazie Roma Benvenuti in Paradiso e tante altre dando vita ad un concerto intergenerazionale un vero e proprio viaggio con i brani entrati nella memoria collettiva di un intero paese che raccontano un'epoca e che sono diventate senza tempo che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo domenica prossima l'esordio del Palermo nel campionato dilettanti la prima gara in trasferta contro il Marsala marcia verso Marsala i tifosi del Palermo ancora una volta rispondono presente e nella prima giornata di campionato domenica contro il Marsala saranno almeno in mille anche se il prefetto di Trapani dovrà fare un sopralluogo allo stadio di Marsala per dare l'ok per un eventuale ampliamento del settore e quindi destinare altri biglietti ai tifosi rosa nero insomma si prevede un esodo a tinte rosa nero proprio nella prima giornata di campionato intanto il Palermo lavora proprio in vista di questa partita e oggi pomeriggio terrà un amichevole al Cus contro il Geraci sarà un ulteriore test per sciogliere i dubbi del tecnico Rosario Pergolizzi che inizierà quindi a formare l'undici da opporre al Marsala nel match di domenica ovviamente ci sono già delle maglie da titolare assegnate come quelle per Santana e Ricciardo o per Rizzopinna nella zona dei tre quarti il Palermo però lavora anche per trovare un campo d'allenamento al momento il tenente onorato è bloccato e quindi i rosa nero sono alla ricerca di un campo per prepararsi in vista delle prossime gare ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di programmi arrivederci a Grazie a tutti.